Qui abbiamo tre tipi di fior di latte, il fior di latte di Napoli, il fior di latte dei Monti e il fior di latte della penisola. Questo qui è perfetto da mangiare in purezza o comunque per le vostre creazioni, per i vostri abbinamenti, come per esempio una caprese. Questo qui è perfetto per la pizza in pizzeria, ma anche quella da fare a casa. Qui invece abbiamo un fior di latte leggermente più sapido, il fior di latte della penisola, che possiamo trovare nella sua acqua. Grazie.